Beh ragazzi, dai! Siamo tutti ancora molto caldi, io vengo qui poco prima di iniziare il post partita su Milan TV. Ho voglia di abbracciarvi tutti, ma sono anche un po' arrabbiato con voi, perché mi avete lasciato solo in queste due settimane, mi avete ricoperto di insulti, mi avete un po' massacrato. Io non mi prendo la rivincita su nessuno, perché capisco che i tifosi del Milan devono avere qualcuno con cui sfogarsi, però ogni tanto anche meno, ogni tanto anche meno. Allora, se dovevamo vivere una serata da incubo come quella con lo Spezia, per vivere la gioia di questa sera, pazienza, va bene. Va bene lo Spezia, va bene tutto. È una grande gioia, una grande felicità. Vi ricordo che il derby è vivo su OneFootball, l'Avdi OneFootball, che vi aspetta, scaricatela nel link alla descrizione di questo video. L'Avdi OneFootball è gratuita, contenuti tutti gratuiti, tutti belli, sono meravigliosi i contenuti di tutti. L'Avdi OneFootball vi aspetta. Allora ragazzi, io ho passato una serata di ieri in trasmissione dove sono stato zitto. Ho passato tutta la trasmissione, ho detto tu devi stare... Io sentivo delle vibrazioni e ho detto stai zitto, stai zitto. Mi hanno detto che erano favoriti, che noi non esistiamo, che ci davano due o tre gol di scarto. Io non so in che mondo vivo, onestamente. Questo negazionismo totale e assoluto... Ecco, Serafini che mi tira le... Sono sul mio canale YouTube, caro Luca. Anche io sono sul tuo canale YouTube. Cos'è più bella? Per 75 minuti starà dominando... Teniamo qui solo la faccia. Olivier? Siamo venuti qui. No, Olivier? Jero! Grande Luca, grande Luca Serafini che esulta come un pazzo per le vittorie della squadra. Io, per carità, lo so bene che l'Inter è forte, non manco di rispetto a nessuno, non ho mai voluto mancare di rispetto a nessuno. Mi hanno tirato in mezzo a dicembre in un Natale infame, prendendo un pezzettino di una roba. Ma ve lasciamo stare. Tutto torna. Io so che questo è il karma di dicembre. Io ho passato un Natale infame e questo è il karma. Prendi anche questo pezzettino. Prendilo. Prendi questo pezzettino. Dedicato a te. Ciao. Allora ragazzi, veniamo a noi. Abbiamo fatto anche troppo il gigione. È vero che l'Inter ha fatto mercato. Assolutamente vero che fare mercato significa dare segnali, significa ribattere i colpi. Per oggi il mercato dell'Inter non c'era perché Gose si è ancora infortunato e Caicedo ha avuto un affaticamento. E noi avevamo Tomori, Revice e Ibra in meno. Avevo letto alcuni colleghi che avevano scritto di derby sbilanciato. A favore dell'Inter, naturalmente. Ecco, io sono felice per la vittoria. Mi spiace sempre che tendano a dipingerci come gli sproveduti, i parenti poveri, quelli che passano per caso. Pazienza ai tifosi avversari, va bene. Ma perché anche gli osservatori terzi? Adesso il Milan arriva a sesto. La Juve prende Blauvić, il primo pensiero è stato adesso il Milan arriva a sesto. Ma non avete ancora capito questo Milan. Ragazzi, ma siete belli duri, eh? Non avete ancora capito questo Milan. Oggi il Milan, allora, il primo tempo è stato tutto dell'Inter. Noi siamo esistiti, la nostra partita all'andata è cambiata quando è entrato Rebici, al ritorno quando è entrato Brahim Diaz. Il primo tempo Inzaghi è stato bravissimo, perché nel primo tempo lui ha inaridito la nostra fascia sinistra, l'ha sterilizzata con la ferocia di Dunfris, che ha tenuto in scacco sia Teo che Leao. È stato bravissimo Inzaghi. E poi la mossa nostra di Kessi su Brozovic, non che Kessi abbia messo una grande pressione su Brozovic, ma la mossa di Kessi su Brozovic è stata neutralizzata da Inzaghi, che ha portato dietro Dzeko. E Dzeko cosa faceva? Kessi recuperava i nostri palloni in orizzontale e faceva ripartire lui l'azione. Quindi quando la palla arrivava a Brozovic, l'azione era già viva, non partiva da Brozovic da fermo. Quindi non poteva andare in pressione Kessi. La palla arrivava a Brozovic quando Brozovic era già di corsa, era già libero e la marcatura di Kessi non poteva esserci più. Quindi nel primo tempo noi siamo stati ingabbiati così. Loro erano in vantaggio meritatamente, anche se sull'azione di calcio d'angolo. E va bene. Poi nel secondo tempo, solita storia, poi entra Brahim Diaz. Entra Brahim Diaz e Kessi ha giocato una partita assente, una partita. Noi siamo un gruppo e Kessi, io ci credo nelle cose che dico, Kessi ha la nostra maglia, fa parte del nostro gruppo. Oggi non so come definire la sua prestazione onestamente. Non lo so. Ce lo spiegherà lui. Però quando è entrato Brahim Diaz è entrato un Brahim Diaz di lotta, non di governo, di lotta. Brahim Diaz ha recuperato palloni, ha lottato. Tonali è stato gigantesco. Tonali è il numero uno dei centrocampisti di Milano, ragazzi. Con il massimo di rispetto per Brozovic e per Barella, mancherebbe alto, che sono due fior di giocatori. Ma oggi il numero uno è stato Tonali. Quella grinta, quell'impatto con cui ha dato l'assalto sull'azione che ci ha portato poi all'uno a uno. Ragazzi, da capitano di Vascello, Sandro Tonali. Da capitano di Vascello. Poi anche Ben Nasser ha fatto una grande gara. Anche Ben Nasser ha lottato, ha dato l'anima. Tutti i ragazzi. Io tolgo solo un po' che sì dall'elogio generale. Mi spiace. Io non voglio... Frank lo so bene che è una nostra risorsa. Sarà una nostra risorsa. Però deve giocare le partite con l'impronta che gli riconosciamo. Non come stasera. Poi cosa devo dirvi di Giroud? Cosa devo dirvi di Giroud? Giroud ha fatto doppietta nell'area di rigore di Marc Attila-Hetley. Guardate che fare il lavoro che ha fatto Giroud a De Vrij. Non so chi ci riesce in questo campionato. Non so chi ci riesce in questo campionato. Perché fare quel lavoro lì a De Vrij. De Vrij è uno solido, sicuro, bravo, forte. Come Skriniar. Come Bastoni. Ma in particolare De Vrij. Uno contro uno. Spalle alla porta. Giroud che si gira e la mette all'angolo. Ragazzi. Il lavoro di Giroud. Visto che c'era anche chi discuteva Giroud sul mercato. La scelta di Giroud. Ragazzi. Ragazzi. C'è questa cosa del sabato alle 18. Noi avevamo vinto il derby sabato alle 18 in casa dell'Inter lo scorso campionato. L'abbiamo vinto anche quest'anno. L'Inter aveva perso l'unica partita il sabato alle 18 con la Lazio. Vabbè insomma. Però queste sono cose esoteriche che vi risparmio. Io ve lo dicevo questa mattina. Noi siamo arrivati al derby che dovevamo perdere tanti a pochi. Ai derby si arriva sempre così. Che loro hanno... Poi io ieri sera sono uscito dalla trasmissione dicendo Mi piacciono quando sono così belli gonfi. Non ho ribattuto per quello. Quando sono belli tronfi. Poi magari... Poi magari... Poi magari se riesce a sgonfiarli dal punto di vista mancherebbe altro al cielo. Prima che qualcuno prenda altri pezzettini. Sper sportivo evidentemente. Dal punto di vista della rivalità, della dialettica, della battuta. Loro non avevano la curva stasera. La curva dell'Inter è una curva forte. Una curva importante. Il fatto che non avesse la coreografia. Il fatto che non avesse gli striscioni. Era trappelato sui giornali che la loro protesta per i biglietti era rientrata. Invece sembra di no. E quindi... E quindi ragazzi abbiamo vinto questo derby. Abbiamo una grande gioia. Siamo felici. Io ho chiuso la telecronaca su Minan TV dedicando un po' di canzoni a Fiorello e Amadeus che sono due fuoriclasse assoluti nel loro lavoro. Sia ben chiaro. Però sono due nerazzurroni. È la serata finale di Sanremo. E tra tutta mia la città questa notte un uomo piangerà. E l'altra canzone. L'altra canzone ve la lascio anche qui. Dai, ve la lascio anche qui. A Minan TV non mi sgrideranno. Come può uno scoglio arginare il mare? Na 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 Era la serata delle cover. L'ho sentita ieri a Sanremo e appena ho sentito questa canzone ieri quando può uno scoglio arginare il mare cantata così ho detto ma noi domani sera vinciamo il derby. È stata una sensazione, mi è venuta addosso. Mi è venuta addosso. Sapete che io sono un prudente, un pauroso, un tremebondo. Mi è venuta addosso questa cosa e oggi sono arrivato qui come l'uomo più tranquillo del mondo. Va bene così. Ragazzi, primo tempo loro erano giustamente in vantaggio 1-0 secondo tempo però pericoli per Mignon non ne ho visti. Poi noi piano piano abbiamo risalito la corrente abbiamo vinto la partita con due grandi gol di Giroud che firma fino a questo momento la nostra stagione. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.